Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, siamo qui per un'altra decorazione agenda Siamo già alla settimana 49, quindi tra poco finisce l'anno Ed è la settimana che va dal 4 al 10 di dicembre Andiamo subito giù in taverna nella mia postazione e iniziamo a decorare Ok, iniziamo sempre con i washi Questa volta voglio fare una decorazione che ci porti un po' al freddo di dicembre, quindi a Natale Allora, vado con questo decotape che avevo preso l'anno scorso da Lidl E questo azzurro con i fiocchi di neve Lo comincio proprio adesso, infatti c'è su ancora il pezzo iniziale Ok Alla fine ho deciso di mettere questo glitter perché ci stava benissimo con quello azzurro di Tiger Di Lidl, ancora Tiger Allora, vado ad attaccare il banner weekend E sull'8 di dicembre vado ad attaccare un pezzettino di washi con gli alberelli Perché in teoria all'8 di dicembre si dovrebbe fare l'albero di Natale La tradizione vuole che si faccia l'8 di dicembre Poi Attacco ora qualche stickers E a queste Queste decorazioni mi ricordavano un po' le palline dell'albero Quindi ho deciso di metterle qui Allora, ora vado a segnare qualche punto Allora, intanto Questa è la mia settimana di ferie Quindi vado a segnarlo E niente, per il momento non ho nient'altro da aggiungere Anche perché non so ne ancora cosa farò sabato e domenica Per il resto appunto sarò in ferie Quindi magari farò qualche girettino Ma non so bene ancora dove Magari un salto da Tiger Magari lo faccio E comunque sarà una settimana che la dedicherò comunque anche alla creazione Devo finire delle gente che mi sono state richieste E poi ovviamente devo preparare i regalini di Natale Andiamo a mettere la decorazione in agenda Ecco, questa è la mia decorazione Ormai l'agenda è ciccione Sta esplodendo Comunque finito l'anno Vi farò vedere come andrò ad archiviare Tutta la mia agenda Ovviamente Diciamo che vado ad archiviarla Perché appunto la mia chicchi Che la voglio utilizzare ancora Che è comunque una bella agenda L'avevo anche pagata non poco Per cui la utilizzerò sicuramente in altro modo E niente Spero tanto che la mia decorazione vi sia piaciuta Se è così mettete un bel pollice in su E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao